si esprime in una letteratura erotica che mostra i giochi che si possono fare unendo Cibo ed Eros, corpo e nutrimento. Tra i colori e le bellezze architettoniche di Piazza Garibaldi a Tuglia, la regista ed attrice specchese Rosaria Ricchiuto ha portato in scena lo spettacolo teatrale Cibo ed Eros nell'ambito della prestigiosa rassegna del Comune di Tuglia e platea d'estate giunta alla 19esima edizione. Cibo ed Eros è una degustazione letteraria in un gioco teatrale basato sull'incontro con il pubblico. Attraverso la voce di Rosaria Ricchiuto e delle sue collaboratrici si attraversano le arterie più calde dell'amore, assaporandone il gusto, prendendo spunto dai versi di celebri poeti e da scelte musicali che fanno da sottofondo. Dietro ai sapori e agli odori si nascondono tanti significati, il corpo, la mente, il desiderio e l'immaginazione che trasformano il cibo in un vero e proprio linguaggio. Con Rosaria Ricchiuto, che è la regista e attrice protagonista dello spettacolo, in scena anche Vincenza De Rinaldis e alla chitarra il giovane musicista Stefano Gnoni. Dopo il successo degli ultimi due anni, che in un crescendo ha portato la giovane artista in giro per l'Europa e l'Italia, ricevendo uno straordinario successo di pubblico e un ottimo giudizio della critica, questo 2011 registra un vero e proprio trionfo per la compagnia teatrale specchiese. Un po' peoni, compagnoni e nati tristi, sempre afflitti dal denaro malato. L'arte è cosa sacra e seria da salvare. Per certo sa che alla serata noi facciamo una vita sregolata.